Eccolo, eccolo Io sono barbuto ma non ho la barba Uh, benvenuti in questo nuovo video Oggi come avrete letto dal titolo siamo tornati con gli acquisti su Wish Anche se in realtà se volete fare dei buoni acquisti Io vi lascio il link in descrizione nel primo commento che è uscito tutto il nuovo merch Petacolo, le mascherine, felpe, magliette, mi raccomando Se volete un pezzo di barbuto sempre piaciuto sapete cosa fare Allora, dato che vi piacciono un sacco questi tipi di video dove faccio acquisti Dove spendo i miei soldi per cose assolutamente inutili Oggi siamo tornati e comprerò tutto quello che costa un euro o meno su Wish Nello scorso video avevamo acquistato un sacco di cose, tantissime robe E ci aggiravamo comunque sui 5-6 euro, 8 euro, 9 euro massimo Perché comunque su Wish si trova un sacco di roba poco Mi sono arrivati dopo 2-3 mesi, ho fatto l'unboxing, un sacco di robe Non erano in realtà come facevano vedere in foto I led che vedete, le strisce led non sono quelle che ho ordinato su Wish Perché mi sono arrivate ma manco un pezzo Ci sono dei fili staccati, na merda, queste qua sono quelle di Shane Aspettate che chiudo la finestra che c'è un casino incredibile oggi Eccolo Quindi diciamo che su tutte le cose che avevamo acquistato se ne sono salvate ben poche Quindi oggi vedremo cosa succederà acquistando tutto quello che costa un euro o meno Vediamo cosa ci arriverà, se ci arriverà e come ci arriverà, quando ci arriverà Allora mi sono munito qua del mio nuovo tablet Siamo punti, siamo punti, siamo pronti a fare acquisti Allora, ta 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 ta, siamo qua, siamo qua, attenzione, siamo qua su Wish Un euro, cerchiamo un euro, vediamo cosa ci esce fuori Allora, popolare Nei filtri mi fa solo modificare il colore e la valutazione Quindi dobbiamo cercare noi tutto quello che costa un euro o meno Allora, io ho messo su popolare Quindi mi usciranno le cose più acquistate, più viste, eccetera Quindi in teoria dovremmo trovare qualcosa Vediamo qua Per ora non vedo nulla Ci sono un sacco di cose Mascherina, 4 euro Ma ovviamente quelle petacolo sono più belle Io ve lo dico Un euro, attenzione, ho trovato una roba a un euro Da 171 euro a un euro Questo qua mi sembra un bel trabocchino Cos'è sta roba? Pro, dentist tool, manipolo led ad alta velocità, pulsante standard Oddio Vabbè, costa un euro Acquistiamo Acquista Hai risparmiato 170 euro ragazzi Io non ci credo mai che da 170 euro a un euro Ma vabbè Andiamo avanti Attenzione, attenzione Da 33 euro a un euro abbiamo un orologio E che orologio ragazzi? Qua continua a girarsi lo schermo Sorry CTZ Orologio da uomo Automatico Di lusso Quartz Orologio da polso Classico Con cinturini in pelle Con confessione Regalo Attenzione perché c'è anche la confessione Regalo Lo prendiamo blu O lo prendiamo nevo? Non lo so come l'ho preso Ho fatto no look Attenzione perché hai risparmiato 31 euro Poi andiamo avanti ragazzi Qua stiamo facendo degli affaroni Questa roba non arriverà mai Se arriverà sarà tipo un orologio finto Fisso Quel robo per i denti Te li distrugge Almeno Attenzione, attenzione, attenzione Da 85 a un euro Qua abbiamo un 2019 Cargo pants Tacticals Water trousers User Outside Sport Hicking pants Slim Special Forces Tactical Pants Multi pocket Casual pants Oddio Acquistiamo SG allo schermo Acquistiamo Prendiamo una Che taglia? Ci sono una M Army green Grey Kaki Prendiamolo color kaki Non so che colore sia Hai risparmiato 84 euro Ragazzi Sono davvero curioso Di vedere Il pacco che mi arriverà Di cosa sarà composto Davvero ragazzi Magari non ci farò un video apposito Però lo sapete che in ogni video Faccio vedere sempre quando arrivano pacchi nuovi Quindi appena Anche perché non arrivano tutti insieme L'altra volta mi è arrivato il puff da solo Poi un'altra roba da solo E poi tutte le altre cose insieme Però in giorni diversi Quindi io non so quando mi arrivano Perché ti dicono Potrebbero arrivare dal Giugno a settembre Eh 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 Ok Andiamo avanti Non vedo più cosa a un euro Attenzione Da 125 euro A un euro Abbiamo questa felpa Autumn fashion Tema di Halloween Sono stampa Sono stampa Fine lettera felpa con cappuccio Grande Manica lunga Casual Festival Top Da 125 euro A un euro White Acquistiamo Ragazzi Che affavoni Hai risparmiato 124 euro E allora Andiamo avanti signori Incredibile Incredibile Ah ragazzi Perché se lo chiedesse Perché me l'avete già chiesto In molti Nelle scorse video Che ho fatto su Shane Su Wish Queste qua non sono sponsor Anche perché se fossero sponsor Non le insulterei Come sto facendo Perché comunque Il servizio Non è dei migliori Ma giustamente Comprando le cose Così a basso prezzo Anche ti puoi aspettare Chissà cosa E poi io non faccio pubblicità A brand Cose di abbigliamento Sono un petacolo Che è la migliore Andiamo avanti Andiamo avanti Attenzione Attenzione Oh 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 Qua abbiamo Un paio di scarpe Che da 254 euro A un euro Scarponcini Trekking Outdoor Da uomo HS Estivali Autosh Antiscivolo Impermeabili Scarpi invernali Da arrampicata sportiva Di alta qualità Sto diventando un matto C'hanno anche la pelliccia dentro Acquistare Nero o dark brown Nero Vai Andata Tanto saranno cose Che non userò Mai Come buttare soldi By Giuseppe Barbuto Vabbè che adesso Fino ad adesso Quanto avremo speso 5-6 euro I don't know I don't know Attenzione Oh Attenzione Attenzione ragazzi Da 20 euro a 1 euro Decalcomania Decalcomania da muro In vinile Motocross Moto Wall art Decolorize Per la casa Soggiorno Camera da letto Dirt bike Sport Poster A 7 2 6 Acquistare Avancione A caso Hai risparmiato 19 euro Andiamo avanti ragazzi Comunque ce n'è tantissima di roba A 1 euro Cioè se guardate Io non so se state guardando Anche gli altri prezzi Che vedete qual è la registrazione Schermo Però ci sono anche delle robe Che da 125 euro Tipo qua Passano a 6 euro Però il più bello È stato quello di prima Da 254 euro Tipo a 1 euro Incredibile Oh 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 Questi Questi spaccano Qua abbiamo su una sola riga Due cose da 1 euro Attenzione Portacavi Nastro Bioadesivo Rotolo Questo qua è troppo lungo Non lo leggerò Non so cosa sia Acquistiamo Bianco 1 euro Via Non so cosa sia È tipo un nastro E qua abbiamo Degli stivaloni Con questi qua Ragazzi ci vai a prendere A ginocchiate Non so cosa Però ci vai a prendere A ginocchiate la gente A calci Sembra quelli che usava Undertaker Comprando tutto quello che c'è A 1 euro Tutto raga Tutto quello che vedo A 1 euro Lo acquisto Attenzione Attenzione Qua abbiamo un portafoglio Da 169 euro Aprite bene Le orecchie Da 169 euro A 1 euro 100 dollari Portafoglio Si vede che in questo portafoglio Ci sono massimo 100 dollari Portafoglio uomo In vera pelle Ripiegabili In vera pelle Abbiamo capito Con portamonete In lusso nuovo Vera pelle Ricordate Hashtag Vera pelle Acquistiamo È risparmiato 178 euro No ragazzi Comunque davvero Non vedo l'ora Che mi arrivi tutta sta roba Perché secondo me Ci sarà da ridere Poi nei commenti Votate Secondo voi qual è Uno L'affare migliore E due La cosa più inutile E ignorante Che abbiamo acquistato oggi A 1 euro Attenzione Ragazzi Questo potrebbe essere un affare 7 copri più o meno Fashion rocks 3D Non so cosa voglia dire 3D Perché Se un copri lenzuolo Lo puoi toccare Cosa vuol dire 3D Vavo Da 91 euro A 1 euro Lo acquistiamo Molti colori Sembrano Le tende di quei film Quando entri Quelle robe Dove ti leggono le mani Ti fanno i giochi delle carte Nei film Che c'hanno tutte queste tende particolari Loro tutte hippie Con tutti questi fumi Quello sembra Secondo me le hanno rubate Le hanno tagliate Le hanno fatte a coperte Ma andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Comunque meno di 1 euro Ancora non abbiamo trovato nulla Male Pensavo di fare affare Qua invece No 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 Attenzione 1 euro Cos'è questa roba Voltage tester detector Matita di provo Del rivelatore di elettricità 1 euro Ok 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 Le cose più strane Che possiamo immaginare Le troviamo su wish Comunque per fare il conto A quanto stiamo spendendo Fino adesso Nel carrello ci sono 11 oggetti Calcolando che tutti costano 1 euro Sono 11 euro Per 11 oggetti Incredibile Oddio Non ci credo Offerta quantità limitata Qua abbiamo striscia di led UV 5 metri Cioè quelle che ho comprato io A 30 euro Da 11 euro a 1 euro No waterproof Waterproof Scusate per il mio English little bit Facciamo waterproof Tanto costano uguale Facciamo quelli che resistono All'acqua E via Ma andiamo avanti Andiamo avanti Attenzione Ragazzi Questa è l'offerta Più assurda Che io abbia mai trovato Da qualche parte Da 417 euro A 1 euro Acquistiamo subito Avvisi luci blu Più rosse Che cazzo è sta roba Una telecamera Rivelamento automatico Rilevamento Rilevamento automatico Wireless C'è una telecamera di sorveglianza Da 417 euro a 1 euro Ma subito Spina USA Spina UK Qua è un bel casino Vabbè Mettiamo spina UK Tanto io ce l'ho Perché sono stato A Londra varie volte Quindi c'ho un set di spine Perché ogni volta Non è che me le porto dietro No ogni volta Sto a ricomprarle E costano tanto Sono così Sono così Ma andiamo avanti Oggi Spenderò 1000 euro A quanto pare Sì Andiamo avanti Perché qua Le offerte Sembrano non finire mai Ragazzi Sembrano Non finire mai Attenzione Allora io direi Di chiudere qui Questa è l'offerta Più assurda Che io abbia mai Mai visto Più di quella prima Cioè questa qua Supera ogni cosa Da 804 euro A 1 euro Cioè 105 euro Di sconto Ma assurdo Questo orologio Vale 805 euro E lo paghi 1 euro Io non Non ci voglio credere Acquistiamo Subito Lo rivendo Ovviamente Non lo rivenderò mai Allora ragazzi Non sono voluto andare avanti Perché devo dire Che mi sto divertendo parecchio Quindi voglio ottenere Altre sorprese Altre robe Per un prossimo video Fatemi sapere Se siete interessati A vedere Quali cazzate Quali cose Possiamo comprare Con solo 1 euro Su Wish Fatemelo sapere Abbiamo preso Tantissima roba Abbiamo speso solo 15 euro Quindi io sono Più che soddisfatto Più che soddisfatto Ora c'è da vedere Se la roba mi arriverà Ma noi siamo positivi Siamo positivi E spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Anche se non lo chiedo mai Oggi ve lo chiedo Mi raccomando Commentate Fatemi sapere Qual è la cosa più ignorante Che secondo voi Ho acquistato E dove ho risparmiato di più Realmente Guardando il prezzo Che c'era scritto lì Di risparmio Noi mi raccomando Ci vediamo ogni mercoledì Ogni venerdì Ogni domenica Alle ore 18 Qua su youtube Quindi Oggi è venerdì Quindi ci vedremo domenica Poi ogni sera Sono in diretta su Twitch Alle 21 Quindi venite a seguirmi Tutti Vi lascio il link In descrizione In primo commento Mi raccomando Noi ci vediamo domenica Ciao belli Ciao belli